La showgirl Belen Rodriguez, e Fabrizio Corona, si sono rincontrati. Ecco le foto pubblicate dal settimanale Chi. In molti, hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. Ma in realtà, l'incontro tra Belen e l'ex compagno, avvenuto in un noto hotel milanese, è stato solo a scopo reunion. I due ex, si abbracciano, si baciano in segno di affetto. Infatti è proprio Belen a dichiarare. A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene, e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo al telefono, prendere uno o due aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Non mi importa, di quello che diranno o scriveranno. Io e Fabrizio sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni. Con la Rodriguez Corona c'erano anche mamma Veronica, gli amici, i figli Santiago e Carlos che hanno giocato in giardino per tutto il pomeriggio. L'amore tra i due ex, è mutato. Ora vivono il sentimento di affetto che li lega in maniera diversa. E Belen ribadisce. A Fabrizio non rinuncio. Ora, gli voglio un gran bene, più di prima. Anti-Credi. Grazie a tutti.